Viene il giorno che le disse, tu Catania non mi basta Quando Giovanni Verga diede alle stampe i Malavoglia nel 1881 mai avrebbe immaginato che gli studenti italiani alla fin fine avrebbero ricordato solo una cosa I lupini Siamo ad Acitrezza, Catania, seconda metà dell'Ottocento dove vengono narrate le vicende della famiglia toscano che è chiamata Malavoglia Il patriarca padron Ntoni, vedovo, vive nella casa del Nespolo assieme al figlio Bastianazzo e alla nuora Longa, che hanno cinque figli Malavoglia è una antifrasi, ossia quando dici una cosa ma intendi il contrario tipo chiamare uno il belloccio e invece è un cesso infatti Malavoglia lavorano come i matti, sono pescatori ed escono sulla loro barca alla provvidenza Un giorno uno dei nipoti di padron Ntoni, che verga per facilitare la comprensione a chi legge il romanzo ha deciso di chiamare sempre Ntoni, e noi chiameremo Ntoni Junior viene chiamato alla leva e così ha prensione in casa perché viene a mancare una forza lavoro importante il nonno allora che cos'è scogita? chiede un prestito allo zio crocifisso, noto usuraio di acitrezza per comprare un carico di lupini e venderli ma apriamo una parentesi sui lupini grazie allo scrittore siciliano Giovanni Verga i giovani studenti italiani hanno potuto approcciarsi per la prima volta con il termine lupini i più sprovveduti ritennero i suddetti lupini crostacei, pesci, muschi, licheni o betulle nane no, i lupini sono legumi e nel caso dei malavoglia pure avariati di qui complimenti a padron Tony per le innate doti imprenditoriali il figlio Bastianazzo prende questi lupini, ricarica sulla provvidenza mai nome fu più scalognato, complimenti e salpa, tempo zero, tempesta perfetta, la nave affonda e Bastianazzo muore e adesso iniziano i dolori, infatti c'è un debito ingente da pagare ma soprattutto i soldi servivano a padron Tony per comprare la dote per la nipote Mena un gesto di buon cuore, ni il nonno voleva infatti darla in sposa a Brasi Cipolla uomo ricco e facoltoso, mentre lei amerebbe Alfio tanto bello e carino, ma povero in canna intanto Tony Junior torna dalla leva con congedo permanente e al suo posto parte il fratello Luca nel frattempo Mena e Brasi Cipolla si conoscono lui dice, carina, e lei pensa, madonna che schifo però il matrimonio sta da fare e iniziano i preparativi mentre nel frattempo tutta la famiglia, tranne Tony Junior che non ha voglia di fare un'eva, ha sempre lavorato a testa bassa per cercare di restituire all'usuraio la cifra prestata altrimenti la casa del Nespolo e la provvidenza che nel frattempo è stata recuperata sarebbero state confiscate ci si avvicina il matrimonio tra Mena e sta cipolla ma al ridosso delle nozze, pan, ecco, ennesima notizia funesta una nave italiana cola picco durante la battaglia di Lissa e su quella nave c'era Luca, e anche Luca dunque schiatta così come muore di colera pure la Longa, la vedova di Bastianazzo insomma, la tragedia le nozze vengono così congelate, la casa del Nespolo viene confiscata Tony Junior, mentre tutti si danno da fare per recuperare l'abitazione non trova niente di meglio da fare che iniziare a girare per osterie e lì incontra la santuzza, una gentildonna che ha avuto relazioni tipo con tutti, pure con il brigadiere Don Michele lo stesso Don Michele scopre che Tony si è dato pure il contrabbando e viene ferito, non a morte per fortuna, dallo stesso Tony che finisce in galera interviene allora il nonno che per aiutarlo usa tutti i soldi risparmiati per pagare un avvocato che possa salvare il nipote l'avvocato cosa fa? racconta una cosa che forse però poteva tenersi per sé inventa che Tony avrebbe aggredito il brigadiere per difendere la virtù di una sua sorella la povera Lia, con la quale il brigadiere aveva in effetti una tresca una cosa che da una parte aiuta a Tony che si becca solo 5 anni dall'altra disonora la povera Lia che così decide di partire per Catania e darsi ufficialmente alla prostituzione passano gli anni padron Tony sta sempre peggio si fa portare in ospedale l'ennesimo nipote, l'unico sano, Alessi riesce a riscattare il nespolo la mena potrebbe ora sposarsi con il suo Alfio ma la furbona dice no, ormai ho 27 anni e sono troppo vecchia e sulla nostra casa c'è il disonore non mi posso sposare mena ma ci sei o ci fai il finale del libro è tristissimo Alessi va dal nonno per riportarlo a casa dall'ospedale e gli dice guarda ho riscattato la casa e potrei trascorrere qui le tue ultime ore sì, infatti il nonno muore prima di entrare e in Tony Junior scontati 5 anni torna al nespolo però rifiuta l'offerta di Alessi di fermarsi da lui e parte il mattino successivo la sua condotta ignava infatti lo ha auto escluso dal nespolo e dalla famiglia che però allo stesso tempo è l'unico luogo in cui avrebbe potuto vivere con dignità insomma una botta d'allegria del resto se si chiama il ciclo dei vinti ciao mi a te torrar Grazie a tutti